Aumentano i casi tumorali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La conferma arriva dai dati elaborati dalla Cooperativa Medica Parmenide, aggiornati al 2017. L'indagine è partita nel 2014 e sin dai primi risultati ha evidenziato un'alta percentuale di casi di tumore nella terra dei nonlini centenari. Ben 170 medici di base forniscono in maniera dettagliata i dati riguardanti il vasto comprensorio che va dalla Piana del Seli a Sapri ed è proprio nel distretto sanitario del Golfo di Policastro che si registra la situazione più critica. I dati sono stati ufficialmente presentati all'ospedale San Luca nel corso dell'incontro di ieri pomeriggio organizzato dall'Associazione Pro Salute presieduta da Lidia 40. Difendi il tuo domani, il tema al centro della discussione con particolare riferimento al tumore alla mammella. Al tavolo dell'incontro, oltre al presidente Gigetto Di Gregorio della Cooperativa Medica Parmenide, Francesco Lombardo direttore del distretto sanitario Vallo Agropoli, la dottoressa Laura Pesce responsabile del reparto di oncologia del San Luca e il chirurgo senologo della medesima struttura sanitaria Pasquale Pisano. Anche se non abbiamo dati, come dire, clamorosi, ma i dati sono ormai anche un po' superiori rispetto al dato nazionale. Ma il dato nazionale riguarda posti come Milano, come Palermo, come Napoli. Voglio dire, noi non abbiamo né aree industrializzate, né attività di particolare rischio e poi abbiamo la stessa percentuale di tumore, dovremmo stare un po' più attenti, almeno a capire. E' sempre il distretto quello di Sapri, dove ci sono le più alte percentuali. Sì, il distretto quello di Sapri è il dato, come dire, sconfortante che più ci allontaniamo dal centro e peggio è. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Ecco perché io spero, non ci siamo riusciti, devo dire, anche con una piccola nota polemica, non siamo riusciti a coinvolgere, io vorrei coinvolgere il parco, per esempio, perché voglio dire, questo è un lavoro che noi facciamo sostanzialmente nell'ambito del territorio del parco. e io mi rendo pure conto che i nostri dati sono un po' scomodi, perché sono dati che non fanno audience, non fanno marketing, fa più marketing la dieta mediterranea, i longevi e noi ci occupiamo anche di quello. Però dovremmo pure capire per quale motivo in questo territorio ci sono i centenari e poi ci sono anche tanti ammalati di cancro. Anche Vallo della Lucania. Anche Vallo della Lucania, che non sfugge a questa sorta di regola distrettuale, perché noi le indagini prima le avevamo fatte solo sul distretto, quindi erano dati così un po' più grossolane. Adesso abbiamo fatto una scansione per comune e io vorrei dare questi dati a tutti i sindaci. Secondo lei c'è un po' di distrazione su questa notizia o si preferisce mantenere bassa l'attenzione? Non lo so, io veramente non lo so, perché o non si crede a questi dati e questi non sono dati manipolati, queste non sono le proiezioni o l'exit pool, no, questi sono dati reali, sono tratti dagli archivi dei singoli 168 medici di questa cooperativa, quindi non c'è nessuna elaborazione. Se nel paese X una percentuale che nell'ambito dell'intero territorio è 4,83, se in quel paese la percentuale è più di 7, io credo che qualcuno si dovrà pure cominciare a... Allora, se noi avessimo un input potremmo anche andare in quel comune a sollecitare il collega di quel comune o i colleghi che lavorano in quel comune e fare un lavoro ancora più approfondito. Ma io non posso fare tutto, insomma, e mi fa piacere, lo cito, l'ho citato stasera, lo continuo a citare, noi lo facciamo perché questa azienda farmaceutica che è la FIDIA, il cui direttore generale è Angelo Schiavo, Angelo si è messo a disposizione per questo nostro territorio. Per carità, io non immagino che tutti debbano avere la stessa sensibilità, però credo che gli amministratori locali, la stessa ASL e quelli che su questo territorio lavorano sul piano sanitario dovrebbero cominciare a porsi delle domande. È successo anche lì, poi tutti quanti magari ci sorridono sopra, ma anche nella famosa terra dei fuochi è successo questo. È successo che molte segnalazioni, il registro di tumori della regione Campania, del Napoletano, è un po' sottovalutato. Poi hanno cominciato a scavare ed è successo quello che è successo. Siamo qui, pronti naturalmente a continuare a denunciare? Assolutamente sì, speriamo solo di riuscire ad avere dei dati sempre più precisi e di poterli proporre nella speranza che qualcuno ci ascolti. Grazie mille.